Avete proclamato questo stato di agitazione da poche ore? Sì, l'RSU ha proclamato questo stato di agitazione dopo che l'avevano già programmato i CGL e CISLEUI a livello regionale. La situazione è al limite del drammatico, per fortuna non per la parte dell'emergenza in quanto tale, ma per la parte della mancanza di personale che già era carente nei mesi scorsi e si è acuita sinceramente da quando hanno deciso di continuare con l'apertura degli hub vaccinali, cosa giustissima e legittima, però bisogna prendere provvedimenti perché il personale è sempre il solito. Ecco perché negli hub vaccinali chi lavora? Lavorano infermieri, lavorano medici, lavorano operatori sociosanitari, lavorano anche amministrativi, quindi se lei ha frequentato gli hub vaccinali vede che in ogni casotto ci sono 3-4 persone, poi adesso è ripresa l'attività, ma fino all'altro giorno non è che lavorassero poi tantissimo, ora invece c'è necessità, tutto personale che in parte della ASL, in parte del libro professionale, ha contratto a pagamento. Non si è dato corso a quelle assunzioni che peraltro hanno state anche annunciate? Esatto, il dato più eclatante è quello del concorso infermieri fatto in regione Toscana da Ester, graduatoria attiva da giugno a questa parte, dovevano essere assunti centinaia di infermieri in ogni azienda, ne sono arrivate col contagocce, noi ne sono arrivate meno di 50 rispetto ai 300 che dovevano arrivare e molti di questi 50 sono stati messi per sostituire i non vaccinati sospesi per motivi di legge. Quindi diciamo che il personale in servizio è sottoposto ad uno stress importante? Sicuramente sì, tenga presente che ci sono tante persone che ancora devono esaurire le ferie del 2020, non parliamo del 2020, proprio perché non è stato possibile mandarle in ferie, quindi il problema c'è, turno di lavoro, cambiamento dell'orario di lavoro, poi è un personale stanco, è anche tendenzialmente anziano, quindi ci sono tante persone che hanno anche delle limitazioni, delle necessità di accudire anche i familiari e non lo possono fare. Il vostro appello a chi va, oltre ovviamente all'azienda sanitaria? Il nostro appello va alla regione che deve sbloccare assolutamente questo piano assunzionale e al governo, al governo perché queste assunzioni in gran parte sono state fatte per l'emergenza Covid, che al di là che si chiama emergenza L'O, continua, e che i fondi del PNR devono per forza prevedere una parte dedicata all'assunzione del personale. Non si possono costruire nuove case della salute della casa della comunità senza poter assumere persone, professionisti.